Dobbiamo avere cura di questa terra che è la nostra casa, il luogo dove nasciamo, dove cresciamo i nostri figli, dove trascorriamo le nostre vite. Nel tempo del creato ci riuniamo come sorelle e fratelli che vogliono accogliere l'invito di Papa Francesco ad ascoltare il grido della terra e il grido dei poveri e a metterci umilmente in comunione con la nostra casa comune. Grazie